Di Massimiliano Nerozzi il dispositivo della Court of Cassation dichiara l'incompetenza della Corte di Torino e ordina la trasmissione dei documenti al pubblico ministero presso la Corte di Roma con alcune righe dispositivo. Alle 10 mezza sera. Quinta sezione Cassazione influisce sul destino dell'indagine Prisma sui conti della Juve. Avviata dalla Procura Torino e condotta dalla Guardia di Finanza il Tribunale dichiara incompetenza. Corte Torino ordina trasmissione dei documenti al pubblico ministero presso Roma. Pertanto, Roma non Milano, che era l'altro quartier generale indicato dalle difese inoltre. Il crimine della manipolazione del mercato uno dei contestati dal club insieme un falso budget sì. Sarebbe materializzato a Milano. In effetti. Dove si trova bashing borsa italiana e dove i comunicati stampa ufficiali della Juve avrebbero. Iniziato produrre i presunti effetti distorti. Una volta che sono diventati noti al pubblico agli investitori. Se le motivazioni della Cassazione sono previste in circa 20 giorni. Esiste tuttavia l'ipotesi che Roma sia stata identificata come sede del servizio della piattaforma. Virtuale che trasmette le borse di studio. Lo stesso su cui il comunicato stampa è stato emesso alla continuata trasformato. Per sollevare la questione della competenza territoriale, era Gup Marco Picco Torino, PMS aveva difeso la propria competenza. Mentre procuratore generale della Cassazione aveva sostenuto trasferimento a Milano.